La manifestazione che mira a promuovere e valorizzare il territorio murgiano, pugliese e lucano. Giovanni Lamanna Esistono tanti modi per raccontare un territorio. La manifestazione Murgiamo in tutti i sensi ha scelto l'esperienza sensoriale del gusto e la riscoperta delle tradizioni enogastronomiche per un percorso insieme geografico ed emozionale. Murgiamo è anche un omaggio ideale a Luigi Veronelli, al giornalista che ha per primo in Italia promosso e difeso la cultura contadina e la cultura enogastronomica in generale. E noi siamo a Matera, in questa terra di infinita bellezza, come seconda tappa geografica di una manifestazione che vuole unire Puglia e Basilicata che a loro volta costituiscono uno dei grandissimi giacimenti culturali e gastronomici della nostra Italia e che abbiamo il dovere, ripeto, il dovere di seguire con la massima attenzione. Dopo Corrado quindi Matera, la città dei Sassi candidata a capitale europea della cultura 2019 e tra gli ospiti della manifestazione il celebre chef Renato Carati di origine salentine a rappresentare la gastronomia di Mons, la città belga capitale europea della cultura 2015 gemellata proprio con Matera. Se parliamo di Mons e se parliamo di Matera che si candida per il 2019, il legame è sicuramente il cibo, che il cibo resta sempre qualcosa di molto concreto e molto anche superficiel, si dice in francese, nel senso che direi è quasi un'arte efemaria, qualcosa che si vede e poi noi distruggiamo mangiandolo e abbiamo la possibilità di dare a questa Europa che ci visiterà un pezzo del nostro territorio. Dopo Matera, Murgiamo prosegue con altre due tappe, Altamura e Andrea.